Musica 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 buongiorno allora si può sapere cosa stava facendo forse correva un po troppo e che ho un appuntamento di lavoro mi spuso mi favorisca i documenti e scendato dall'auto si si subito scende dall'auto cortesemente se correvo mi fate la multa non c'è problema può aprirmi il portabagaglio cortesemente ma può aprire bene cosa sono questi produco lavorati in ferro quello è catalogo della mia fabbrica sono in giro per lavoro e ne apre ecco mi tira fuori la valigia grazie a me la apre anche ecco lecce sono soltanto i miei vestiti guarda faccia pure se al casale qua il limite di 80 chilometri orari perché è così agitato se infatti io ho bisogno d'aiuto trovo veramente in una situazione molto grave a casa a casa guardi non so neanche come dirglielo a casa mia moglie mi tradisci veramente la prego devo andare via io sono solo sicuro che la trovo a letto comunale per favore mi lasci andare da prego per favore per favore